Allora sono in compagnia di Sara Papa, un volto conosciutissimo, volto tv, ma una donna che veramente ha giocato su se stessa e ha vinto e per dire anche il motivo per cui sei qui stasera, una grande amica di Jus Gustando, non a caso questa sera ti tocca la giuria? Sì, come al solito insomma, sono molto contenta perché poi loro si mettono in gioco, è molto carino, anche se io poi certe cose, no, vabbè però gliela diamo perché ce la mettono tutta. Senti Sara, ho detto prima presentandoti una donna che si è messa in gioco e ha vinto, per quei pochissimi che ancora non lo sanno, mi racconti in sintesi la tua bellissima storia, avventura di maestra nell'arte bianca? Ma devo dire il grande sacrificio che c'è nella vita di ogni donna, no? Ok? E che passa attraverso delle difficoltà e ognuno di noi in queste difficoltà deve darsi forza perché noi siamo forti, non dobbiamo farci scoraggiare, dobbiamo andare avanti per i nostri figli, per la nostra vita e ce la facciamo più degli uomini. E quindi rimboccarsi le maniche è una cosa straordinaria che ti porta ad essere, a fare quello che tu desideri. Ok? E quindi è veramente una grande soddisfazione per tutte le donne poi. Allora Sara, tu hai studiato tanto, parliamo dell'arte bianca, sei maestra in questo meraviglioso impasto che dà vita a questa materia straordinaria che è il pane, ma non solo. Allora, parlami del tuo ultimo successo. Ma l'ultimo successo è l'ultimo libro che è uscito il 19 settembre, Lievito Madre Vivo, perché parliamo di natura, tradizione, il pane, il pane è la vita della nostra alimentazione e allora è il ritorno alla semplicità. Ormai si parla tutti di tradizione, ma dove sta la tradizione negli chef ragazzi? Cioè fanno delle cose allucinanti, permettimi. Allora, ritorniamo al pane, come dice Bottura il pane è oro e altra cosa bellissima è che faccio parte di questo expo, ormai è andata, il refettorio ambrosiano, il riciclo del cibo, i 45 chef importanti al mondo che riciclano gli avanzi e io faccio la panificazione per il refettorio ambrosiano. L'ultimo libro, Lievito Madre Vivo, che parla di salute, di quello che noi troviamo nel pane che mangiamo, quello che è la nostra alimentazione di carboidrati, tanta qualità, scarsa qualità, glutine, tutte le intolleranze che arrivano. Quindi è un libro veramente molto interessante e ritorno alla semplicità. Quindi il libro è un grande successo, in 60 giorni siamo in ristampa, 5.000 copie volate e quindi devo dire che sono felicissima perché l'altro ieri è andato in ristampa. Grazie Sara, un grande successo, lo diciamo anche ai nostri utenti e noi siamo veramente orgogliosi di averti potuta intervistare in questo frangente. Ricordiamo Sara Papa, giudice di gara in Ius Gustando, questa disfida tra avvocati e magistrati. Grazie Sara. Grazie a te.